Ho deciso di fare un film su Pier Vittorio Tondelli per una sommatoria di ragioni. La prima ragione sicuramente è che anagraficamente è uno scrittore che sento molto vicino e che in qualche modo è stata una scrittura importante nella mia vita, un autore col quale ho sviluppato un rapporto di confidenza e che ha permesso in alcuni momenti della mia vita di coprire dei silenzi e di trovare delle risposte. E quindi in qualche modo il mio film è inevitabilmente un tributo. C'è una frase di una delle scrittrici che partecipano a questo film, che si chiama Claudia Durastanti, che dice testualmente «Tondelli è molto più grande della parola postmoderno». Io sottoscrivo in pieno questa sua visione. Credo proprio che le tematiche trattate da Tondelli, l'essere caduto nella trappola della censura con il suo primo romanzo, l'essere stato sempre un autore in grado di raccontare telegraficamente in un certo modo una certa realtà di contemporaneità, senza essere una bella penna, ma essendo una penna significativa del suo tempo, abbia creato a Tondelli una mistificazione sostanziale. Cioè gli ha dato una notorietà enorme, ma nello stesso tempo la conoscenza dei suoi scritti è molto bassa, come spesso succede. Si può essere molto famosi, ma non sempre molto frequentati. «Altri libertini» è appunto il romanzo di esordio di Tondelli, non a caso è un romanzo di esordio, perché come tutti i romanzi di esordio ha quel tipo di forza dirompente che si può avere soltanto quando si scrive per la prima volta, si scomincia a scrivere, quel tipo di forza che poi va scemando e soprattutto finisce per essere sempre più controllata. Perché avete accettato di partecipare a questo film di Andrea Adriatico dedicato a Pier Vittorio Tondelli? L'idea di affrontare, non dico un ruolo, perché noi non interpretiamo dei ruoli veri e propri, siamo dei narratori, siamo degli intervistatori, siamo un po' ibridi, ma la cosa principale era la possibilità di immergersi all'interno di questo universo fatto di personaggi, direi borderline, una letteratura molto complessa, di cui io in realtà, anche qui sarò onesto, sapevo molto poco, avevo letto poco di Tondelli, ma più che altro non conoscevo la grandezza del personaggio e quindi c'era una serie di fattori. Un altro fattore è il fatto che si viaggiasse molto per realizzare questo film ed è una delle cose che amo di più come artista e come persona. C'è Lele. Il primo sguardo che ho incontrato è che mi lascerà soltanto un anno esatto dopo a Roma, il 6 di aprile, in una trattoria di Trastevere. Ai piedi a zoccoli di cuoio arancione, la tracolla è una sacca dello stesso colore, con frangette e motivi floreali punzonati, indossagenze nemmeno tanto scoloriti, calzettoni gialli da roccia, capelli lunghi, ma non troppo. Sicuramente anche per il fatto che con Andrea avevo già lavorato e ripetere l'esperienza che mi sarebbe piaciuto. Ma anche perché... per altre due motivazioni. La prima è che ritengo che Andrea faccia... produca dei film necessari. cioè racconta delle cose che non... che non sono superflue, che mancano. Andrea ha scelto proprio un soggetto mancante, una sfaccettatura sul personaggio di cui avevamo bisogno. Lo stesso vale per Mario Mieli, che era proprio assente una narrazione di quel momento storico e di quel lato della nostra storia, quindi per quello intendo necessario. poi ovviamente tutta l'arte in linea di massima è necessaria.